il sole stava scomparendo dietro alla grande catena in cui il cuide d'homme è il gigante e l'ombra della cima invadeva la profonda valle di roià alcune persone stavano passeggiando intorno al chiosco della musica altre se ne stavano ancora sedute in gruppi nonostante il fresco pungente della sera in uno di questi gruppi la discussione era molto animata da quando una seria preoccupazione angustiava le signori di sarcagnè di volancelle e di bridoillet tra qualche giorno sarebbero iniziate le vacanze e sarebbero arrivati i loro figlioli tutti educati in collegio o di gesuiti o di domenicani e quelle dame non avevano nessuna voglia di affrontare un viaggio per andare a riprendere i loro rampolli e non conoscevano nessuno a cui affidare quell'incarico di fiducia ormai eravamo alla fine di luglio Parigi era vuota le signore cercavano senza riuscire a trovarlo un uomo che desse loro tutte le dovute garanzie il loro imbarazzo era cresciuto da quando una deplorevole faccenda immorale era accaduta qualche giorno prima proprio nello scompartimento di un treno quelle degne dame erano convinte che tutte le donnine allegre della capitale trascorressero la vita sui direttissimi tra l'Alvernia e la stazione parigina detta di Lione e d'altra parte a sentire la signora bridoillet la cronaca del Gilles Blas segnalava la presenza a Vichy al mondo re e alla burbul di tutte le orizzontali note e gnote per trovarsi là saranno di certe messe sul treno e in treno sarebbero di sicuro ritornate perché questi loro viaggetti d'affari erano quotidiani c'era dunque un andiriviene continuo di donnacce su quella maledetta linea le signore erano dispiaciute per il fatto che non era stato vietato l'accesso alle stazioni ferroviarie alle donne sospette ora Roger de Sarcaniere aveva 15 anni Gontran de Bulasel 13 e Roland de Bridoillet 11 e mezzo che cosa fare? non si potevano certamente esporre i propri diletti figliuoli al contatto di simili creatura che cosa mai avrebbero potuto udire, imparare se avessero trascorso un'intera giornata o una notte in uno scompartimento occupato da una o due di quelle cortigiane e da uno o due dei loro compagni la situazione sembrava senza via ed uscita quando la signora de Martinsack si trovò a passare di lì si fermò per salutare le amiche che la misero al corrente delle loro preoccupazioni lei allora esclamò ma è una cosa semplicissima vi presterò l'abate per 48 ore posso farne a meno l'educazione del mio Rodolphe non ne risentirà per così poco lui andrà a prelevare i vostri figliuoli e ve li ricondurrà qui fu così stabilito che l'abate Lecure un pretino giovane e colto precettore di Rodolphe de Martinsack si sarebbe recato a Parigi nella settimana seguente per scortare i tre giovinetti l'abate partì il venerdì e la domenica era alla Gare de Lyon per salire coi suoi tre birichini sul direttissimo delle otto il nuovo treno istituito in seguito alle richieste di tutti i villeggianti in Alvernia passava sul marciapiede seguito dai suoi ragazzi alla ricerca di uno scompartimento vuoto occupato da gente rispettabile infatti aveva la mente ottenebrata dalle minuziosissime raccomandazioni fattegli dalle signore de Sarcagné de Boulancel e de Bridoillet d'un tratto scorse davanti a uno sportello un vecchio signore e una vecchia signora dai capelli bianchi che chiacchieravano con un'altra persona già seduta nello scompartimento il signore era ufficiale della legion d'onore e quelle persone sembravano assolutamente per bene ecco quel che ci vuole pensò fra sé l'abate e fece salire i tre ragazzi nella vettura entrando dopo di loro la vecchia signora diceva soprattutto abbi prudenza figliuola la ragazza rispondeva sì mamma sta tranquilla chiama il medico appena ti senti male sì sì mamma addio allora figliuola mia addio mamma ci furono lunghi abbracci e poi un impiegato delle ferrovie rinchiusa lo sportello e il treno partì erano soli l'abate soddisfatto si congratulava con sé stesso per la propria sagacia si misce a discorrere con i ragazzi che gli erano stati affidati il giorno della sua partenza erano rimasti d'accordo che la signora di Martinsek avrebbe consentito a lui di dare ripetizioni per tutto il periodo delle vacanze a quei tre ragazzi perciò voleva sondarne l'intelligenza e il carattere Roger de Sarcagné il maggiore era uno di quei collegiali lungagnoni cresciuti troppo presto palli di magrolini dalle articolazioni che non sembravano saldate per intero parlava con lentezza e ingenuamente il suo discorso venne interrotto da un profondo sospiro della loro compagna di viaggio volse il capo verso di lei era seduta in un angolo con gli occhi sbarrati le guance esangue l'abate ripresa di scorrere con i suoi discepoli Montrande Volancel al contrario era piccoletto tozzo malizioso cattivo di un'intelligenza sorniona canzonava sempre tutti e spesso adoperava parole da adulto più che da ragazzo dava risposte piene di doppi sensi che avevano turbato i suoi genitori il minore Roland de Bridoillet era amorfo non aveva predisposizione per niente era uno sciocchino e basta assomigliava in questo al genitore l'abate li aveva preavvisati che essendo affidati alla sua responsabilità durante quei lunghi mesi estivi dovevano fare il loro dovere verso di lui che stava spiegando loro con un sermoncino il modo con cui si riproponeva di disciplinarli e il metodo che avrebbe adoperato era un prete dall'anima retta e semplice un poco troppo proclive alle frasi reboanti e alle classificazioni riduttive il treno procedeva a buona velocità attraverso boschi e pianure passava sotto gallerie e sopraponti scuoteva nella corsa i viaggiatori chiusi negli scompartimenti contrande e volanzel stava adesso facendo delle domande alla bate su roià e gli svaghi che poteva offrire c'era un fiume si poteva andare a pesca gli avrebbero dato un cavallino come l'anno precedente a un tratto la giovane signora gettò un grido un ah di sofferenza appena accennato preoccupato il prete le domandò vi sentite male signora lei rispose no no signora bate non è niente un dolorino roba da niente da qualche mese sono è malata e il movimento del treno non mi giova di certo lui insistette se posso fare qualcosa nulla signora bate vi ringrazio il pretino riprese la conversazione con i futuri discepoli preparandoli al suo insegnamento e alle sue direttive le ore passavano il convoglio ogni tanto si fermava e poi ripartiva la giovane signora sembrava dormisse adesso sprofondata nel suo angolo benché si fosse ormai nel pomeriggio un'oltrato dai non aveva mangiato nulla la bate pensava deve sentirsi molto male rimanevano appena due ore all'arrivo di Clermont-Ferrand all'improvviso la viaggiatrice cominciò a gemere si era quasi lasciata scivolare dal sedile e tenendosi aggrappata con le mani gli occhi smarriti allineamenti contratti ripeteva in continuazione oh Dio mio oh mio Dio la bate si slanciò vi posso essere utile che cosa vi sentite credo credo di stare per per partorire e cominciò a gridare in modo spaventoso i suoi lunghi urli disumani sembravano d'accerarle al loro passaggio la gola erano urli acuti orribili la cui sinistra intonazione rivelava l'angoscia dell'animo e la sofferenza del corpo il povero pretino smarrito in piedi davanti a lei non sapeva che fare che dire che tentare mormorava ah se avessi saputo Dio se avessi saputo era rosso sino al bianco degli occhi e i suoi tre allievi guardavano stupiti quella donna distesa che gridava un tratto lei si contorse tutta alzando le braccia sopra la testa il suo fianco ebbe uno strano sussulto una convulsione che le fece tremare l'abate pensò che stesse morendo che moriva davanti a lui priva di soccorsi e di cura per colpa sua allora disse con voce risoluta vi aiuterò signora non so come ma vi aiuterò come potrò devo la mia assistenza ad ogni creatura in sofferenza poi si volse ai ragazzi gridando voi mettetevi al finestrino e se qualcuno si volta mi copierà mille versi di virgilio abbassò i vetri sistemò le facce dei tre verso l'esterno e tirò dietro di loro le tendine laterali mentre ripeteva se fate un solo movimento mi farò rinunciare a tutte le gite della vacanza non dimenticatelo io non perdono poi tornò subito dalla giovane signora rimboccandosi le maniche della tonaca lei zemeva sempre e ogni tanto urlava assisteva alla bate col viso paonazzo la confortava ma frequentemente osservava i tre ragazzi che sbirciavano con occhiate furtive e subito sviate verso il misterioso incarico che si era assunto il loro nuovo precettore il prete allora si metteva a gridare signor de Boulasselle mi copierete per venti volte tutto il verbo di subidire signor de Bredoyer starete senza frutta per un mese all'improvviso la donna cessò di lamentarsi e quasi subito un grido bizzarro e lieve che assomigliava a un abbaiamento timido o meglio a un leggero mugolio fece rivoltare tutti insieme i tre collegiali persuagi di aver udito il lamento di un animaletto appena nato la batte reggeva tra le mani un neonato interamente nudo lo guardava con occhi pieni di spavento ma sembrava contento e insieme disperato vicino sia al riso che al pianto lo si poteva prendere per matto tanto la sua faccia esprimeva un'infinità di cose con la rapida mimica degli occhi delle labbra e delle guance come se volesse annunciare agli allievi una grande notizia dichiarò è un maschio ma subito riprese a ordinare signor de Sarcagné datemi la bottiglia dell'acqua che è sul portabagagli va bene così sturatela benissimo versatene qualche goccia nella mano solo qualche goccia bene così e con quell'acqua bagnò la fronte nuda della creaturina dicendo ti battezzo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen il treno stava entrando nella stazione di Clermont il volto della signora di Biritoyer apparve al finestrino allora l'abate perse la testa e le presentò la fragile creatura che aveva appena raccolto borbolando la signora qui presente ha avuto un piccolo incidente di viaggio aveva l'aria di chi ha raccolto un bimbo in una fogna i capelli madidi di sudore il collarino di sghimbescio sopra la spalla la tonaca tutta insolzata non faceva che ripetere i ragazzi non hanno visto niente ne rispondo io guardavano tutti e tre dal finestrino ne rispondo io non hanno visto niente discese dallo scompartimento con quattro maschietti invece dei tre che era andato a prendere mentre le signore di bridoillet di bridoillet di bridoillet di bridoillet e di sarcagnè livide si scambiavano sguardi e sterrefatti senza trovare una sola parola da dire la sera le tre famiglie cenarono insieme per festeggiare l'arrivo dei collegiali durante la cena nessuno parlava padri madri e gli stessi figlioli sembravano preoccupati il più giovane Roland de bridoillet domandò all'improvviso dimmi mamma dove l'ha trovato l'abate quel bambino la madre rispose mangia e lasciami in pace con le tue domande il ragazzo stette zitto per un po' poi insistette e non c'era che quella signora che aveva mal di pancia l'abate deve essere un prestigiatore come Bert Houdin che fa comparire un boccale di pesci da sotto un tappeto vuoi stare zitto? è il buon Dio che l'ha mandato ma dove l'aveva messo il buon Dio? io non ho visto niente prima lì è entrato dal finestrino spazientita la signora de bridoillet ribatté insomma finiscila sta zitto è nato sotto un cavolo come tutti i bambini lo sai bene no? ma se nello scompartimento cavoli non ce n'erano allora Gondrano de Boulancel che stava ascoltando con aria sorniona sorrise e disse sì un cavolo c'era ma l'ha veduto solo l'abate grazie a tutti grazie a tutti